Le deleghe assegnate a distanza di due mesi dal presidente della provincia di Teramo, Diego Di Buonaventura, i consiglieri eletti lo scorso 18 dicembre non sono assolutamente piaciute alla Lega. Una questione che ha suscitato dissapori nel centro-destra terramano, in particolare tra i due principali partiti della coalizione, Lega e Fratelli d'Italia. Dopo le due noti di domenica, inviate una dal coordinatore regionale Luigi Deramo per contestare le deleghe assegnate da Di Buonaventura e accusarlo di vuoto politico e amministrativo. L'altra dal coordinatore regionale della Lega Giovani, Francesco De Santis, attaccando Fratelli d'Italia. Ieri tre esponenti terramani del Carroccio hanno inviato altrettante prese di posizione. La Lega, e lo hanno detto chiaramente tutti i nostri rappresentanti a vario livello, rispetta le scelte ma ovviamente non le condivide nel merito e nel metodo. chiaramente ci saremmo aspettati qualcosa di diverso, ma comunque si va avanti, si va avanti in uno spirito di collaborazione, di crescita e di tutela del territorio. Sicuramente il sindaco Costantini in provincia non farà mancare il suo contributo alla coalizione, alla maggioranza, poi rispetto al ruolo, rispetto alle deleghe vedremo come comportarci. Secondo lei queste decisioni hanno portato una piccola spaccatura all'interno del centro-destra? Ma non è una spaccatura, si discute, si ragiona. Noi tante volte abbiamo mostrato ragionevolezza e spirito di solidarietà e di collaborazione rispetto ai nostri alleati. Tante volte la Lega ha fatto dei passi indietro per magari non mortificare le scelte dei nostri alleati, le posizioni dei nostri alleati, i rappresentanti dei nostri alleati. Ci dispiace che per una volta che abbiamo chiesto noi questo tipo di solidarietà e di condivisione ci è stata negata in nome di una serie di ragioni che accettiamo ma che non condividiamo e l'abbiamo detto in modo del tutto, credo, urbano e civile. Non ci sono spaccature, la coalizione deve rimanere unita per il bene del territorio. La Lega è una forza politica che si propone proprio come obiettivo primario e una buona amministrazione del territorio ed è quella che ci continueremo come impegno a garantire in provincia di Teramo come in tutti gli altri enti in cui governiamo.